ciao ragazzi io sono nico di me sono ritornato con un nuovo video nuova sfida sfida anteprima toti 7 mi raccomando ragazzi lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto andiamo vamonos allora questo non c'entra proprio niente se avete un alto per metterlo di overall 80 più la potete usare dalla liga spagnola se no potete usare anche questo ci arrivate comunque è lo stesso all'intesa io ho preferito mettere questo perché mi costa meno rispetto a qualsiasi altro terzino destro questi sono i giocatori che dovete usare in pratica prezzi diciamo abbastanza buoni cerchiamo di tenerci quanto più possibile sotto un k perché dobbiamo guadagnarci avere un guadagno da da ogni pacchetto quindi meno spendiamo e più guadagniamo e questo è l'ultimo ok fatto ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video noi ci vediamo quanto più presto possibile con un nuovo video ciao ciao